Domenica 27 gennaio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolisse. Partiamo con la politica. 21 liste e 6 candidati alla presidenza e circa 300 candidati ad un posto da consigliere comunale. Questo è il quadro complessivo delle candidature. La chiusura dei giochi ieri alle 12 ai tribunali di Campobasso e Isernia con tante conferme ma anche con qualche sorpresa. Elezioni regionali, giochi definitivamente chiusi, circa 300 i candidati che lotteranno fino all'ultimo per andare ad occupare una delle 21 poltroni di Palazzo Moffa. Alla fine tra loro ci sono le conferme di tante anticipazioni e indiscrezioni ma ci sono anche tante novità in attese. Ma cominciamo con i candidati alla presidenza. Lottano per la massima carica in sei. L'uscente Michele Eorio a capo della coalizione di centrodestra con 5 liste di sostegno in entrambe le province. PDL, UDC, Grande Sud, Progetto Molise e La Destra. C'è poi Paolo Di Laura Frattura a capo della coalizione di centrosinistra con 10 liste a sostegno in provincia di Campobasso e 7 in provincia di Isernia. Si tratta di PD, SEL, IDV, Udeur, Socialisti, Comunisti, Rialzati Molise, Noi per il Molise, Unione per il Molise e Guerriero Sannita. Le ultime tre liste non saranno presenti a Isernia. Massimo Romano a capo di una coalizione civica alternativa con tre liste. Costruire democrazia, Fare Molise e Democratici per il Molise. Quest'ultima lista non è stata presentata in provincia di Isernia. C'è poi il grillino Antonio Federico con a sostegno la lista del Movimento 5 Stelle e Antonio Dell'Ellis con Rivoluzione Democratica. Per chiudere infine con Camillo Colella con la lista Lavoro, Sport e Sociale. Quattro i suoi candidati, uguali sia per il proporzionale che per il listino. E parliamo proprio di listini che hanno fatto registrare qualche sorpresa, come quello di Orio che avrà in corsa con lui Fernanda Pugliese, poetessa, scrittrice e direttrice della rivista Camastra, Chieffo, Velardi e Giovan Carmine Mancini, gli altri tre. Con Frattura ci saranno Parpiglia, Miriscalco, Niro e Totaro. Nell'istino di Massimo Romano, Domenico Di Lisa, Donato D'Ambrosio, Patrizia Vicolli e Paolo Marinucci. Con Antonio Federico, Saverio Acobucci, Andrea, Gregorio Pini e Sergio Busacca. Con Antonio Dell'Ellis, Silvio Arcolesse, Marcello Cima, Vincenzo Gravino e Giovanni Di Vico. Infine con Camillo Colella, stessi candidati, sia al proporzionale che al maggioritario, Maria Teresa D'Achille, Quirino Pietricone, Daniele Castaldi e Giorgio Cristina. Fin qui i candidati, intanto ieri sera a Isernia, si è ufficialmente aperta la campagna elettorale per le elezioni politiche, con la presentazione di Filoteo Di Sandro e Gianfranco Vitaliano, i due candidati al Parlamento per Fratelli d'Italia. I soci fondatori di Rivoluzione Civile, Antonio Di Pietro e Luigi De Magistris, si dividono sulle elezioni regionali e forse è partita proprio dal Molise la definitiva separazione dei due leader. Ma sentiamo Giovanni Minicozzi. Due ex PM, amici in apparenza, ma il loro rapporto è stato sempre spigoloso. Antonio Di Pietro e Luigi De Magistris, eletto parlamentare europeo prima e sindaco di Napoli dopo, proprio con l'Italia dei Valori del Tonino Nazionale, hanno creato insieme il Movimento degli Arangioni e insieme sostengono il candidato premier Antonino Ingroia, ma nessuno dei due sostiene la lista di Antonio De Lellis, Rivoluzione Democratica, che pure si richiama a Rivoluzione Civile. Io appoggio Antonio Ingroia a livello nazionale, non si è costruita la lista Rivoluzione Civile come si è fatto nel Lazio e quindi in Lombardia e nel Molise, che sono le altre due regioni, si è andata autonomamente. In Lombardia appoggiamo con Di Stefano Ambrosoli, il Movimento Arancione sta con Di Stefano che è la componente di sinistra che appoggia Ambrosoli, in Molise appoggio Massimo Romano. Dunque, proprio nella regione di Antonio Di Pietro, i due XPM si sono divisi. Il leader dell'Italia dei Valori, infatti, è alleato col centro-sinistra di Paolo Frattura. Diversa anche la posizione dei due big sui futuri rapporti con Pierluigi Bersani. Ingroia, se ci crede, può arrivare primo, comunque può avere un ottimo risultato. Quello è il voto utile. Adesso, finora, ci hanno governato Monti, Bersani e Berlusconi e hanno prodotto macelleria sociale e compressione dei diritti e mortificazione della Costituzione. Questa formazione politica è una formazione politica di tipo progressista che vuole costruire anche nel Paese ciò che stiamo costruendo nel Molise, cioè un'alternativa al governo delle destre, che si chiamano Iori o che si chiamano Berlusconi. In Molise, con senso di responsabilità, noi, ma anche il Partito Democratico molisano, abbiamo scelto di fare squadra comune per mandare a casa quel modello di governo e quel tipo di programma fatta appunto di interessi e poteri forti e di distribuzione e elargizione agli amici. In Italia non ci siamo riusciti a livello nazionale prima delle elezioni, ma più forza avrà rivoluzione civile, più convinceremo spintaneamente anche a livello nazionale il Partito Democratico a non affidarsi un'altra volta al suo assassino politico, cioè a Monti, che ha pregato i morti, ha fregato i vivi, cioè ha preso in giro il Partito Democratico dicente che faceva il tecnico e che adesso si è presentato proprio contro Bersani. Allora è meglio affidarsi a una moglie col mattarello che è un amante che ti tradisce. O no, Luigi? Oggi anche in Molise si celebra la giornata della memoria. A Torella del Sannio è prevista una manifestazione organizzata dall'ANPI per ricordare il partigiano Nicolangelo Ciamarra deceduto a dicembre del 2011. In mattinata sarà apposta una targa commemorativa davanti alla casa della famiglia Ciamarra e a seguire si svolgerà un incontro nella sala convegni comunale Don Antonio Cerrone. L'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia ha celebrato il suo trentesimo anno di attività a Campobasso. Il presidente Rocco Cimino ha parlato ai nostri microfoni delle attività e degli obiettivi futuri. Cosa rappresenta per voi il raggiungimento di questo traguardo come anniversario? Allora, come raggiungimento non rappresenta nulla. Il lavoro invece rappresenta, cioè le cose che si lasciano rappresentano molto. Il fatto di aver fatto trent'anni non vuol dire nulla. Il problema è che abbiamo messo in moto i ragazzi e questo è una cosa importante, quindi possono senz'altro produrre qualcosa. In cosa consiste il progetto delle cattedre itineranti? Le cattedre itineranti, quella del tratturo, quella del territorio in generale, sono servite per far sì che i presidi ci facessero uscire dall'aula e noi, assumendoci la responsabilità di questi ragazzi, abbiamo imparato perché i ragazzi quando escono sono ricchi di creatività e ci aiutano e il territorio, come dice il buon Einstein, è la culla di tutti i saperi, quindi hanno prodotto tantissimo. Secondo lei quanto è alto l'interesse verso questa materia che è la geografia? Dunque è alto zero. Asini in geografia, ne sono usciti dei articoli. Però se uno lo fa, come dicevano i nostri padri, quelli buoni, Kant, Darwin, cioè se uno va a leggere il territorio, la geografia diventa la disciplina reggina, cioè diventa importantissima, perché tu usi il territorio e la disciplina che ti consente di avvicinarti al territorio è proprio la geografia, che la scuola italiana ha penalizzato. Quali sono i vostri prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sono di uscire ancora. Adesso usciamo con gli altri docenti, perché noi non siamo più attivi, perché siamo pensionati, però lo facciamo ancora come volontariato con i colleghi, specialmente con i maestri e le maestre, che amano il territorio, forse più di tutti e fanno sì che i ragazzi imparino molto dal territorio. Solo che poi la maggior parte di questi ragazzi buoni li perdiamo. Continuano gli Open Day negli istituti scolastici per illustrare a genitori e studenti le offerte didattiche. Oggi scuola aperta al liceo classico Mario Pagano di Campobasso dalle 10 alle 13, Open Day al geometra Pittarelli in Via delle Frasche a Campobasso dalle 11 alle 13, dalle 15 e 30 alle 18 e 30. Scuola aperta al professionale per l'agricoltura in Viale Manzoni a Campobasso dalle 9 alle 13 e Open Day all'Ignazio Silone di Isernia dalle 15 e 30 alle 19 e 30. Ed è tutto per l'informazione, ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Con Marco Presutti in regia, iniziamo con il giornale del Molise.it, presentate le liste, oltre 300 i candidati in corsa per la carica di consigliere regionale, 6 quelli alla presidenza della regione, Iorio appoggiato da 5 liste, Frattura da 10, Romano da 3. Vediamo nel dettaglio, è stata una corsa all'ultimo minuto ma alla fine ci sono tutti, ben 6 candidati alla presidenza della regione con la new entry Camillo Colella che si aggiunge a Michele Iorio, Paolo di Laura Frattura, Massimo Romano, Antonio Federico e Antonio Delellis. Le liste in corsa al proporzionale sono 21 e i candidati alla carica di consigliere regionale oltre 300. Le diamo le altre notizie del giornale del Molise.it, bagno di folla per Massimo Romano e Luigi De Magistris, messaggio del presidente della regione Michele Iorio per la giornata della memoria. La regione rettifica nessuna fantasia nell'avviso pubblico del 12 dicembre 2012, incentivi aiuti in linea con la normativa europea. Le altre notizie dalla regione, Paolo di Laura Frattura mi auguro una campagna elettorale rispettosa dei molisani senza offese e aggressione da primitivi. Elezioni in laboratorio progressista è nata Rivoluzione Democratica, un'alleanza che va oltre le elezioni regionali del Molise. Poi mareggiata a Rio Vivo non è cambiato nulla, i residenti chiedono un incontro a Iorio. Gli altri giornali regionali, primo piano Molise, regionali ecco l'esercito dei candidati, presentate 21 liste, in 300 sperano di guadagnare un seggio a Palazzo Moffa, sale in politica pure l'imprenditore Camillo Colella che schiera la moglie al suo fianco. Entra a mezzogiorno il risponso su chi è stato ammesso alla competizione del 24 e 25 febbraio. Di Sandro e Vitaliano, noi la novità del centro-destra, la madre di tutte le battaglie, bagno di folla per i fratelli d'Italia che aprono la campagna elettorale. La curiosità vede il suo nome in lizza e si reca dai carabinieri, il caso rischia di finire in tribunale. Campobasso il male della giustizia, processi troppo lenti, ieri l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Vediamo lo Sport League Pro, Lupi assalto al Chieti per rialzare la testa, gli ultra sugli spalti durante la rifinitura, Capone accetto il consiglio, me ne vado. Serie D arriva il termo, li derby a Dagnone, Lisernia in casa, della Miterna, Big Match al Civitelle, porte chiuse a Scoppito. Eccellenza Coppa Italia all'ora della verità tra Turris e Fornelli. Il quotidiano del Molise regionale inizia la corsa, 21 liste per 6 aspiranti governatori, si riduce il numero degli sfidanti, 301 in astre di partenza, 100 in meno del 2011. Anno giudiziario della Corte d'Appello, processi Lumaca, Infantini, serve una riforma della giustizia. Candidato a sua insaputa si rivolge ai carabinieri, è giallo. Lo Sport, Lupi, Colchieti, Capone, contestato dagli Ultras, il patron vado via. Coppa Italia è il giorno della finale, si sfidano Fornelli e Turris. Serie D al Civitelle, tutto pronto per il derby tra Agnone e Termoni. Lisernia sarà ospite della Miterna, della Miterna, sul campo di Scoppito. I fatti del nuovo Molise, elezioni regionali in astre di partenza, 6 in corsa alla carica di governatore, 316 candidati e 21 liste. Da ieri è iniziata la campagna elettorale per scegliere il nuovo Consiglio, le tante novità e i grandi assenti. Poi inaugurato il nuovo anno giudiziario, Infantini, giustizia lenta. Trasporti, i lavoratori dell'ATM annunciano lo sciopero. Il tempo, la pagina del Molise, 6 aspiranti governatori e 300 consiglieri. In campo, a sorpresa, anche l'imprenditore delle acque minerali, Camillo Colella. Presentate 21 liste nel maggioritario, 20 nel proporzionale di Campobasso e 17 di Isernia. Nomi noti e facce nuove spopolano i calciatori tra i candidati consiglieri, professionisti della politica ed anche esponenti della società civile. Ancora, anno giudiziario, giustizia sempre più lumaca per un processo, 630 giorni e intanto aumentano del 7,6% i procedimenti pendenti. A termoli, petrolio in mare, analisi sospese per il maltempo. Lasciamo ora le pagine regionali, passiamo alle notizie nazionali. Il Corriere della Sera, Monte Paschi, le carte segrete, Nuova Lite, Monti Sinistra, Bersani, Sbrano, chi ci accusa i documenti del 2011 con le divisioni tra i consiglieri da Banca Italia, sì, al prestito. La pena di morte a 21 tifosi scatena gli ultra in Egitto. Assalto al carcere, 30 le vittime, proteste e violenza, uccisi anche due calciatori. La Gazzetta della Mezzogiorno, anche qui Monte Paschi di Siena, caccia alla Maxi Tangente. Bersani, se ci attaccano, li sbraniamo Berlusconi, ma ora salviamola. Monti, né con Sel, né con la Lega, vendola con lui gli amici di Mossari. Il tempo, il ruggito di Bersani su Monte Paschi di Siena, sbraniamo chi ci attacca, la sinistra tenta di tirarsi fuori dallo scandalo di Siena, le indagini su una pista estera da Banca Italia, l'ok ai Monti Bond, poi la Lazio gelata dal Chievo Bianco Celesti, stanchi, sconfitti all'Olimpico. A venire a Zardo la battaglia dei sindaci, passo del Tar del Piemonte, i comuni decidano sulle slot e si appella alla consulta. Poi Monte Paschi di Siena, accuse e ricette. L'unità, la sporca guerra del Monte, Bersani pronti a sbranare chi ci accusa, a profumo e viola, poteri commissariali. Il mattino, laureati in fuga dal sud. I dati della Federico II, dopo il titolo, uno su tre insegna o lavora all'estero. L'Ateneo napoletano forma i migliori talenti, l'80% trova presto occupazione, ma molti vanno via. Monte Paschi di Siena, Bersani attacca, Lega e PDL. Continuiamo con la stampa nazionale. Vediamo ancora il manifesto, che titola Mazzetta Nera. Gianni Alemanno nega il suo coinvolgimento in presunte tangenti legate ai bus della Breda Menarini, ma difende tutti gli ex camerati del cerchio magico tirati in ballo. I PM chiedono la rogatoria in Svizzera. La Repubblica, Monte Paschi, caccia ai conti segreti, sequestrato il computer di Mussari, accuse di falso in bilancio e turbativa. Bersani sbrano chi ci attacca, Monti no ad alleanze con il PDL. E bagno di sangue in Egitto, almeno 30 morti nelle rivolte, scontri per le condanne a Port Said. La stampa, Monte Paschi di Siena all'affondo di Bersani, sbraniamo chi ci attacca. Berlusconi non sanno gestire una banca, figurarsi il paese. Mali, i Tuareg in fuga dalla vendetta. Il giornale, la finanza rossa trema, caccia ai cento conti del PD, milioni depositati al monte. Il Cavaliere dice hanno distrutto il Monte Paschi di Siena, figuriamoci l'Italia. Tangente Anton Veneta, spuntano otto bonifici, caos derivati. C'è la prova che Banca Italia sapeva tutto dal 2010. Libero, fuori la verità subito, vogliono nascondere la tangente del Monte Paschi di Siena. E Monti ha svenduto i BTP, non sono più garantiti dallo Stato. Il sole 24 ore, l'intervista ad Alessandro Profumo, sogno un socio finanziario per il rilancio del monte. Da Banca Italia arriva il parere favorevole per i monti bond. Poi Mutui, la burocrazia ostacola la proroga, manca il regolamento delle finanze per attivare il fondo di solidarietà. La gazzetta sportiva, Milan, balo ad un passo, la svolta di mercato. Galliani allo scoperto, 20 milioni da pagare in sei rate. Raiola, pronta a partire, porterà l'offerta ai dirigenti del Citi. Furia, Juve con il Genoa 1-1, rigore non dato ai bianconeri al novantatresimo. Il Finimondo, Conte insegue l'arbitro, Marotta guida il napoletano, difficile arbitrarci. Oggi il Napoli col Parma ha l'occasione per portarsi a meno tre. Poi Mitico Paris e Coutinho va a Liverpool, assalto Inter a Paoligno. E con la gazzetta sportiva si conclude il nostro appuntamento del mattino. L'informazione torna alle 14. Buona giornata e buona domenica.